GTA 5 è anche questo come vedete c'è un uomo quasi nudo, quasi completamente nudo ha solo le mutande, i calzini e delle scarpe indosso ma nelle mutande una pistola e voi direte dai su può entrare ma questa questo e attenzione anche questo queste sono le cose belle di GTA 5 si ragazzi ciao ciao